Questa è Demetra. No, è a sud qua. Va bene. Ok, ancora le rovine, una marea di avamposti, non avendole alternati qua è solo un problema gli avamposti, a parte che forse sono solo i campi di l'alveare, sono solo i campi che danno un po' di storia. Gli avamposti probabilmente sono proprio cose così per livellare un'attività secondaria, quindi boh. Abbiamo un po' visto, c'era questo per esempio, eh. Possiamo dare un'occhiata, ma per me non da niente. Devi uccidere il capo e basta. andiamo qua, ok. Ehm, no, no, no. Facciamo rifornimento. Oh, sta sempre lì. Mantenuto... Non l'abbiamo usata quel... col guscio atroce. Questo. Lui dice opzionale, ma alla fine... Tanto su livelli bassi queste donne azioni. La mia lama è affilata. I miei occhi sono stati. Ti abbiamo in pugno! È a terra! Questo immagino, no? Non ne è fregato niente nessuno. È tornata la straniera! Pericolo! Chiamata alle armi! Ho un occhio amico! Il soldato con la parazza pesa, bisogna di essere riccato. Eh? Ma... 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 Ha sempre ste cavole di emi Quindi non gli puoi fare Gli puoi fare l'headshot Primo colpo quantomeno Ah si qua Si muovono una volta che Guarda che c'è di guarda tuono Una volta che Che sono alertati Però che spinta che ti ha dato A me si muovono sempre Ma perché mi si muovono sempre E' stato evidente Che è passato in mezzo Non pensavo come l'avessi dato Buono Però guarda gli facciamo Io t'ho preso in faccia Non fregami di nuovo con il tuo cavolo Ecco si carica Ok Stavolta non mi ha fatto ridere Stavolta non mi ha fatto ridere Adesso ti ammazziamo subito A te Tutti gli altri sono Per me Che palle Ma io dico 50 59 Che utilità Che utilità qualcosa Vediamo un attimo Vediamo un attimo Vediamo un attimo Vediamo anche usare Fiammeggiante Acido Elettrico Contro di questi qua Mi sa che Portori umani Proviamo quello di un attimo Però Ehm Anche in precisione 69 72 Però non ha quelle soniche appunto 71 75 Adesso arrivano 75 E Che possono essere danneggiano agli nemici dietro di loro Quando compiscono più nemici Questi passano attraverso i corpi Questo che sta dicendo A me interesserebbe invece L'ungoraggio che affiscono danni extra durante l'uso di concentrazione E c'è il 10% in più con l'aveva 7 Aveva 80 A me interessa invece Per me Perforante vuol dire che passa attraverso l'elmo Cioè Che fa danni anche attraverso l'elmo Magari un po' più ridotti Ma non sembra che sia così Danne contro nemici multipli Boh qui è specificato solo così Passano attraverso i più nemici Basta Non parla di armature Questo in teoria era quello che atterrava Perchè non lo menziona qua? Quello lì è quello per atterrare no? Però proviamo un attimo a metterlo su Boh Questa non fa un cavo Questa volta non mi freghi Ma dai Le maschetto concorso con uno Oh Oh Non è che Stia facendo questo grande Accumulo di stato Non posso più sparare Oltre che L'elettricità è letale Contro gli umani Perchè puoi si rifrizzi O qua fai colpo politico Però Nell'altro vi usavo le bombe Elettriche Non so Anche queste archi qua Che cosa Staccavolo servono Una chiave Vediamo se ci sono C'è qualcosa C'è qualcosa C'è Saranno anche comodi Perchè E' abbastanza maneggiabile Ma E riesce No? Sì Ancora riempito di stato 800 frecce Molto meglio I ribelli stanno disotterrando i corruttori, chissà se serve ad aprire quel forziere. Devo al cavolo, siete tutto? No. Tutto lo tu? Non li vedo! Ho trovato l'orientale! Adesso si ragiona! Dai dove siete? Ce n'erano uno qua mi sembra. E' questa? Ah scoperto l'antica? Corruttore? Corruttore? Ah si si per il corpo però. Tutto il corruttore qua. Ah ma sei qua? Affazzati. Wow, andiamo su. Questa? C'è bisogna tirarla giù o così? La freccia riempiazzata dove? La zona rossa. Eh... Piaestrine. Non so, bisogna mangiare ancora. Ancora le macchine qua. Non so, se ne andranno da soli. Potrei eliminarli subito. Comunque qui ho finito. Corruttori. Smantellati per ricavarne parti, pare. E scavo il stronzo. Perché secondo me questo fa parte del campo. I ribelli non daranno più fastidio a nessuno. Quattro van posti. Ehm niente appunto, questo conferma che sono un discorso di piastrina. C'è un po' di corruttore, ma... Cosa che c'è dentro? Pochissimi frammenti metalli. I ribelli stanno smantellando i corruttori. Pessimo segno. Ma questo 27 dai. Un po' più interessante. 13. 15. Niente basta. Per cui come dicevo, boh... Ah, qua c'è qualcosa. Per cui come dicevo, boh... Sono cose che potrei fare da solo se avessi voglia. Le altre cose, tipo Batosta, tipo le... Le fosse. Quale invece mi piacerebbe più mostrarle. Però appunto, un episodio ai... Boh, extra. Ah, ecco cosa c'è qua. Un altro drone Cyclops. Gli prenderò i dati per riconnetterlo con la cupola alla base. Sì, lo so che sei lì di Boratuono. Allora, vediamo... Oh, possono andare via. Ma avessi fatto una cosa a te di me. Spieghi. Ho fatto aver sentito il colso rumore, ma tra l'altro abbiamo messo anche... Abbiamo pure messo il cosi qua. Abbiamo fatto la riduzione. Ah, qui possiamo mettere a bombe fumose, ecco dove c'è. Ma regione con cupo silenzioso. Questi sono più danni da lontano. Sì, è silenzioso di due. Sì, è silenzioso di due. Ma cosa è un po' troppo situazionali queste qua. Per me. Questa invece non è male, perché alla fine non è una sorta. Però... Perché dovrei far questo invece di... Allora, questo sembrerebbe più una cosa l'ideale per un multi-target, no? Per un target unico. Perché sennò che cosa dovrei stare... Perché non gliela devo sparare nel... Nel corpo direttamente? Cioè, o non me lo spieghi, o fa più male così, ma lo dici ok. Per me sono più una cosa da gruppo, ma lì è ritratto solo uno. Quindi non lo saprei. E questo qua. E questo qua. Pensa... In realtà... Allora, questo non è quasi finito. Cosa che mancava qua in fondo? Gratacari. Non abbiamo mai avuto... Non mi sembra aver mai avuto grave problema per quella roba lì. Ma manca qualcosa anche qua. Ok, questo. Oh. In realtà li vorrò a tuono... Se non se ne va... Quando poi atterriamo col drone. C'è qualcosa che compromette il focus. No, andiamo in qua, va. Forse si può salire anche dalla parete di qua. Non possiamo vedere... Non possiamo vedere... Sì, qua non possiamo vedere la salita. Questo che fa questa cosa. In questo caso ci aventa un problema. Non si vede dove possiamo salire. Non si è accorto di noi, forse. Non lo saprei. Non si è accorto di noi, forse. Non lo saprei. Non si è accorto di noi, sì. Paolo. Pensavo di arrivarci. Non si è accorto di noi, sì. Paolo. Pensavo di arrivarci. allora devo farcela qua purtroppo l'ho attenzionato ho richiamato l'attenzione di lui quindi questo poi ci ha fatto sempre bello sopra posso arrampicarmi su qualcosa per saltare sul drone non fa sono capito forse sembra che ci sia un piano di legno sto insomma questo ripiano di legno non è che è una cosa bella non è che la macchina resiste al freddo inutile congelarla non è che bene moriamo moriamo miracolo lasciamo 6 di 10 lì c'è scritto 5 quindi ovviamente dobbiamo riconnettare anche questo cosa succederà lo vedremo questo è qualcosa che abbiamo sganciato cavi trasferiamoci no questo ci fa trasferire bravo boh andiamo avanti come noi siamo qua indietro anche comunque estremarsi ha soldato questo è un po' di volte che lo guardiamo vediamo 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 la realtà mi dice mi dice gel artigli posto di pecora forse era meglio andare ancora qua perché così facevamo anche un attimo uno uno dal mercante cos'è che c'è dove stefano no qua aveva fregato il drone da sotto da sotto le zambe praticamente allora vediamo cos'è che vediamo che possiamo prenderlo oh usavano la stessa risorsa vabbè meglio questo forse perché mi sa che è più potente di quello che avevamo prima vediamo le risorse ok non c'è niente no ok così travolgente il termine travolgente questa cosa qua della teoria del travolge non è quindi sturdire abbattere attenzione abbattere pezzo delle cavalcature abbattere in generale sturdire o quando mai ce l'abbiamo fatta è ancora una posizione una cosa penso che è inutile andiamo a vedere un attimo di laviti la scorta è qua anche perchè a me purtroppo devi fare la munizione e poi farti scorta perchè lui usa quello che è l'indosso vediamo il vagabondo calza 27 elettricità questo però tutto il resto il problema è che il problema è che saprò un misto di cose o per lo meno magari è un attacco elementale specifico ma però non è che poi non subisce per esempio un danno in mischia per esempio il longipeda ti fa danno nel senso che i soliti saltano addosso tipo l'azzatura di salto addosso fa elettrico ma in realtà poi ti dà anche una bella del zampata e quindi comunque manca il diffusore sul cassone non è così semplice le questioni allora togliamolo l'indicatore vabbè si è tolto da solo non è così semplice non è così semplice ah beh, che ne ho, la ma, che ne ho questo è unito a uscala ops, ops, ops Grazie a tutti. il braccio è buio un raduno un raduno del caf qual è il palpino come si chiama la rupe sembra scalabile il braccio è il palpino il braccio è il palpino il braccio è il palpino